Dal 22 al 31 maggio Pesaro si tingerà di green con la prima edizione di simposio Stili di vita sostenibili. Una serie di incontri, presentazioni e azioni a sostegno dell'ambiente che si svilupperanno in diverse aree della città. Tra Parco Miralfiore, Monte San Bartolo, Spazi del Municipio, Villa Caprile, Biblioteca Brail e Piazzale della Libertà emergeranno i valori di conoscenza e buone pratiche a tutela dell'ambiente. Taglio del nastro dell'iniziativa avvenuto questa mattina proprio al Parco Miralfiore con la partecipazione degli alunni di Quarta A della Scuola Primaria di Villa San Martino. Alunni e ragazzi tra i principali destinatari di questa iniziativa. Questa è una prima attività, come ho sempre detto, in cui raccontiamo la sostenibilità da parte di tutte le realtà che vivono la nostra città. Quindi le buone prassi dell'amministrazione, in particolare domani, abbiamo le scuole che fanno attività concreta e avremo tutte le associazioni, tutti i portatori di interesse. Domani abbiamo la presentazione delle prassi virtuose degli enti locali. Quindi parlerà anche l'ufficio ambiente perché noi abbiamo iniziato alcune strategie importanti come la strategia Fiver che è stata presentata settimana scorsa in Commissione Ambiente. È veramente un qualcosa di pianificatorio e strategico per la nostra città che darà degli strumenti amministrativi molto importanti anche per affrontare la questione della gestione dell'acqua e del disestero idrogeologico. In particolare il riferimento alla gestione dell'acqua e le aste fluviali, il 25 giovedì mattina, maggio, si parlerà proprio di questo con anche qui gli stakeholder, quindi consorzio di bonifica, lata e tutti coloro che gestiscono l'acqua nel nostro territorio. Però il momento clou, infatti volevo proprio sottolinearlo, è quello del 31 maggio mattina, anche con le conclusioni del nostro sindaco che è anche presidente di Ali, come noi sappiamo, assieme alla rete dei comuni sostenibili perché Pesaro ha iniziato questo percorso, anzi uno dei fondatori diciamo di questo percorso, con la presentazione del monitoraggio volontario che è anche questo uno strumento molto importante per spiegare se e come una città può essere sostenibile. Questo simposio, come ho detto più volte, è rivolto a tutte le realtà che compongono una città. Questa è una città che si inserisce pienamente nel percorso di resilienza e di rinascita del PNRR e questo riguarda anche ovviamente il nostro tessuto produttivo e ieri abbiamo fatto un bellissimo convegno dove abbiamo coinvolto Confindustria e l'ordine dei commercialisti perché anche quella è una realtà importante che chiede all'amministrazione di essere presente nella transizione ecologica, energetica e digitale.